alle che vanno a posizionarsi dietro le ali della macchina premio college record prova per 4 anni non vincitori 12.000 euro in carriera o di due primi premi dallo scorso primo di agosto non corrono Zoraia Grada numero 2 Zungriff numero 6 all'1 Zardefebi al 3 Zerufonta al 4 Zelante US al 5 Zinia Gall al 7 Zodekar very nice per la prima fila la seconda con l'8 Zanita Jet il 9 Zucchero Jet il 10 Zanzara Jet l'11 Zulux very nice il 12 Zelig quest'ultimo il favorito da corsa in maniera piuttosto evidente quando la macchina va per prendere velocità e lasciare i concorrenti allo stacco prova a mantenersi in quota con il numero 1 Zardefebi che precede Zinia Gall che non trova posto per l'inserimento di un avversario e precisamente del numero 4 Zelante US e così al termine della curva rimane comunque al colando Zarre dei Febi con i primi 400 metri percorsi in 28 e 7 alle sue spalle sempre il 4 Zalante US quindi Zinia Gall che ha trovato posto ora intanto dalle retrovie provano a muovere gli altri con soprattutto Zelig 44 e 2 il passaggio 600 di corsa con intanto Zelig che sta recuperando posizioni ma Zarre dei Febi nel frattempo si è portata nuovamente al comando 800 in un minuto spaccato da 1 e 15 quando siamo adesso di fronte il tentativo in terza corsia anche di Zulux Very Nice che cerca di recuperare qualche posizione si arriva così al chilometro in 1 e 14 e 6 da parte di Zarre dei Febi che continua a condurre mentre Zellig lì in seconda corsia al lato di Zalante US in terza c'è Zulux Very Nice questo a metà della piegata conclusiva con tanto Zellig che è scesa alla corda dopo aver superato Zellante che è di galoppo e in dirittura d'arrivo con ancora Zarde Febi che ne ha un paio di margine su Zellig che ora prova l'attacco decisivo Zellig che va su Zarde Febi Zarde Febi che tenta la difesa da Zellig che guadagna qualcosa Zellig che è molto incisiva nel finale Zarde Febi alla corda si mantiene in evidenza anche con un po' di sofferenza l'andatura non bellissima ma comunque Zarde Febi che ha tagliato il traguardo al primo posto nei confronti di Zellig e infatti ecco la sirena della giuria che probabilmente dovrà controllare l'andatura di Zarde Febi vediamo gli ultimi metri con Zarde Febi alla corda Zellig all'esterno e i due giungono molto vicini probabilmente Zellig copre del tutto Zarde Febi terzo posto comunque per il numero 11 di Zulux Very Nice e poi ancora per il 7 Zodecar Very Nice questo il probabile ufficioso ordine di arrivo il tempo totale è di 2 minuti 1,15 la media al chilometro ma attendiamo il risponso del giudice di arrivo e 5 1 2 2 2 3 2 6 9 9 10 11 12 12 13 13 Grazie a tutti.